Mi trovo in via Lago di Ampollino, Contrada Toscano, Taranto 2. Ho girato per anni e anni queste zone, ma devo dire che la situazione con il passare degli anni è peggiorata e non pensavo oggi di ritrovare quello che sto mostrando alla vostra visione. Guardate, un manto stradale che chiamarlo, definirlo dissestato è poco, perché qui le radici degli alberi, il fatto stesso che l'asfalto non è stato mai rifatto, determina una situazione pericolosissima, un manto stradale assolutamente sconnesso, con dislivelli paurosi. Non vi dico cosa succede quando piove davvero il lago, non a caso si chiama via Lago Ampollino, penso che la coincidenza sia stata quasi scritta dal destino, ma questo manto stradale di via Lago Ampollino completamente sconnesso è pericolosissimo per tutti, è pericolosissimo per gli automobilisti, è pericolosissimo per le persone, è pericolosissimo per coloro i quali si spostano in moto, perché basta minimamente, basta un minimo davvero per essere sbalzati chissà dove, e penso anche ovviamente alle persone, non solo gli anziani, ma anche i giovani che camminano e cadono, inciampano. Guardate, io sto camminando qui e trovo la prima trappola, continuo a camminare e trovo il dislivello, guardate che dislivello che c'è, proprio salto di quota potremmo definire, un salto di quota proprio, ci sono almeno 7, 8, 10 centimetri di dislivello. E così andando, altre trappole, guardate i tombini dell'acquedotto pugliese che non essendo livellati, ovviamente sono delle trappole, una macchina, una moto, basta che una moto appunto colpisca, vada a sfiorare il tombino e si ribalta, ma la stessa persona che cammina ci cade. Questi sono i risultati di un'amministrazione, l'amministrazione Melucci-Musillo, completamente assente. Hanno pensato a gettare un po' di fumo in faccia i cittadini con Via di Palme e Via d'Aquino, dopodiché il resto della città è buona solo per andare a chiedere i voti o per far pagare le tasse. Per il resto questi sono cittadini completamente dimenticati di serie B, di serie C, scegliete voi la categoria e non è una cosa accettabile. Io voglio essere il sindaco di tutti, il sindaco del centro e il sindaco delle periferie. I cittadini hanno pari dignità ed è davvero un peccato che questa zona viva in questo stato di degrado perché è una zona davvero bella, molto elegante, residenziale, con villette a schiera. La potrei definire, passatemi un po' un'espressione forte, come dei piccoli parioli. Solo che i parioli a Roma hanno un manto stradale degno di questo nome e non uno scempio come questo. Abitanti di Via Lago di Ampollino e zone limitrofe, il 12 giugno pensateci, pensate a me, pensate a chi vi ha ridotto in questo degrado avendo peraltro la presunzione di dichiarare, come fa Melucci, di aver seminato la rinascita o la presunzione di Musillo di criticare queste situazioni, di evidenziare questo degrado quando proprio lui le ha prodotte amministrando per 4 anni e mezzo con Rinaldo Melucci. Se volete la svolta non è molto difficile, una bella croce su Taranto senza Ilva, su Luigi Abate, candidato sindaco. Non ho la bacchetta magica e non l'avrò mai, però dalla parte mia c'è l'impegno. Guardate, proprio mentre ora stiamo parlando, guardate questa macchina che è costretta a fare il saliscendi. Momento, questa è una macchina bella, così, sostenuta di una certa dimensione, di una certa volumetria. Immaginate una macchina piccola o immaginate una moto, ve l'ho detto, salta in aria. E allora riflettete e se vorrete cambiare, come mi auguro, pensatemi. Pensate a Luigi Abate sindaco e a Taranto senza Ilva.